Non capito, non capito, non capito, no, dobbiamo aspettare l'approvazione di domenica, ah eccola, ci sono, ma dobbiamo aspettare l'approvazione, non c'è, uno, ci si, no, se è uno, aspettiamo, ora si, si, 4, si, 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 ora si, ok, dobbiamo aspettare l'approvazione, ha detto si, dobbiamo aspettare l'approvazione, si, almeno i commenti, ah ok, ciao a tutti, buonasera, come state? Aspettiamo qualche secondino, diteci se ci vedete bene, commentate un attimo dicendoci se ci vedete bene, stasera facciamo i taralli, tarallini, taralli, adesso vediamo insieme tutto, ci vedono bene? Ti vediamo tutto benissimo, ok, allora possiamo iniziare, facciamo i taralli, i taralli in realtà mia nonna li chiamano biscotti, perché si cuociono due volte, e infatti qui c'è una tentola per bollirli, e poi vanno in forno, però poi vi dico anche il metodo di cottura senza bollitura, ora iniziamo a fare l'impasto, così nel frattempo io poi lo lavoro e vi spiego tutto, all'impasto, alla farina aggiungiamo l'olio, gli ingredienti sono nel link, così non perdiamo di vista la realizzazione della ricetta, dicendo gli ingredienti, comunque ve li dico una volta, mezzo chilo di farina, 10 grammi di sale, che potrebbero essere anche 15, da 10 ai 15, dipende dai vostri gusti, mezzo chilo di farina, 150 grammi di olio, 10 grammi di sale, io metto un pizzico di zucchero, perché mi piace che i taralli abbiano un bel colorito, quindi metto un pizzico di zucchero, e poi il vino bianco caldo, poi naturalmente potete aromatizzare i taralli, a seconda dei vostri gusti, quindi semplici, potete utilizzare curcuma, zenzero, unite alla farina l'olio, facendolo assorbire per bene, così, io sto usando l'olio extravergine di oliva, però molti di voi mi hanno detto che lo trovano pesante, e che quindi non sopportano il gusto troppo forte dell'olio extravergine, potete utilizzare l'olio di semi, se proprio non vi piace, però con l'olio extravergine d'oliva naturalmente hanno un valore aggiunto, Allora, una volta ottenuto questo composto così, puoi farvi vedere? Così, aggiungiamo poco alla volta 150 grammi di vino bianco, poco alla volta, mi raccomando, e iniziate ad impastare, allora dicevo potete aromatizzarli come più preferite, quindi con i semi di finocchio, con la curcuma, con lo zenzero, con il pepe, con il peperoncino, con l'origano, con il rosmarino, potete utilizzare, aspetta adesso non mi viene, il pepe, il peperoncino l'ho già detto, che altro? La cipolla, allora per farne alla cipolla per esempio, potete usare o la cipolla disidratata, quella che trovate al supermercato già pronta, oppure potete tagliare la cipolla a pezzettini piccoli piccoli, farla cuocere con un pochissimo olio e un po' d'acqua, non deve soffriggere, deve cuocere, una volta cotta la fate raffreddare e poi la aggiungete all'impasto, suggeritevi voi altri gusti di tarallini, anche al gusto pizza, al gusto pizza dovete aggiungere il concentrato di pomodoro, non la passata perché è troppo liquida e andate a sbilanciare gli ingredienti, la quantità del vino poi, e l'origano con un po' di formaggio, Ditemi voi quali altri gusti ci sono, in questo momento mi sfugge qualcosa forse, Se il vino deve essere caldo? Sì, sì, il vino deve essere caldo, non bollente, caldo, il calore serve così come nell'impasto delle pastatelle e del calzone, a rendere più fluido l'olio, Forse il vino? Sì, c'è chiusa l'acqua, però non sono la stessa cosa, non hanno lo stesso sapore, al massimo potete fare metà e metà, però non sono poi i taralli, sono un'altra cosa, i taralli va il vino, i taralli va il vino, bianco, sì, bianco, anche frizzante potete utilizzarlo, se in questo momento non avete il vino bianco da tavola, potete utilizzare uno sfumante, quello che avete, io oggi li farò al pepe, e quindi aggiungerò del pepe macinato fresco, adesso lo chiara solo, è meno sporche, vabbè, si vede? Che sto mettendo il pepe? Si vede. Aggiungetene parecchio, così si sente, potete usare anche un peperoncino in polvere, comunque la ricetta la trovate nel link che si trova nel post, dimmi se c'è qualche domanda nel frattempo che io sto impastando, non c'è nessuna domanda? Questo è il nostro impasto, se ci può impastare con la planetaria, certo, planetaria, bimbi, con quello che avete a disposizione, io uso, con le mani non ha tuo sapore, io non so ne la planetaria e nel bimbi, uno perché non ce le ho, e due perché ciò che faccio deve essere una portata di tutti, e quindi anche se ce le avessi non li utilizzerei, questo è il nostro impasto, ora, io lo lavoro un altro po', fai vedere come è venuto? Per il momento è così, se lo lavorate alla planetaria, lavoratelo a lungo, anche naturalmente a mano, più lo lavorerete, e più i taralli saranno lisci, e belli, le dosi sono nelle sopra, mezzo chilo di farina, 150 grammi di olio, 150 grammi di vino bianco, da 10 ai 15 grammi di sale, un pizzico di zucchero, e poi insaporite con quello che più preferite, semi di finocchio, peperoncino, pepe, curcuma, zenzero, rosmarino, origano, io le ho fatte al pepe, potete farli, come ho detto prima, alla pizzaiola, e quindi con il concentrato di pomodoro, l'origano, e un po' di formaggio, anche al formaggio le potete fare, cacio e pepe, mettete un po' di pecorino e del pepe, potete utilizzare gli ingredienti che volete, alla cipolla, ok, io non lo lavoro tanto, perché lo devo utilizzare adesso, questo, la regola vuole che riposi almeno mezz'ora, noi lo utilizzeremo subito, rimane in un attimo, del vino, 150 grammi, un attimo solo, che adesso vi faccio vedere, allora, questo è il nostro impasto, sì, questo è il pepe, non vuole qualcuno, credo che, no, non è, è stato aggiunto il pepe, ho aggiunto il pepe, ora, questo è il nostro impasto, ripeto, deve riposare per mezz'ora, un quarto d'ora, mezz'ora almeno, e quindi, una volta riposato, si distende, e diventa più facile da lavorare, io però lo devo fare adesso, perché non possiamo aspettare mezz'ora, così, a guardarci, prendiamo, dei pezzi di impasto, così, è tutto live, in diretta, prendiamo dei pezzi di impasto, così, tagliate, e prendete, decidete voi la grandezza, che volete dare ai vostri taralli, quindi, se li volete fare piccoli, tagliate dei pezzi piccoli, così, quindi, ora facciamo i tarallini, vi faccio vedere i tarallini, così, aspettate, così, l'impasto doveva riposare, ecco perché lo vedete un po' grezzo, se avesse riposato, sarebbe bello, liscio, lo dico per quelli che lo stanno guardando adesso, e non hanno sentito che deve riposare, cerchiamo di farli tutti uguali, non come sto facendo io, prendete un punto di riferimento, allora, vi dico come fare, prendete un punto di riferimento, se è questo, il vostro punto di riferimento, mettetelo qui, e poi, la lunghezza, sì, e poi create gli altri taralli in base, a quel punto di riferimento, e quindi fate così, perché, nella cottura, è importante che siano, più o meno, uguali, naturalmente noi, non stiamo usando le macchine, stiamo usando le mani, quindi, non saranno perfettamente uguali, questo non è perfetto, ora sì, sono fatte a mano, infatti, la particolarità, anche quando li compriamo, i taralli fatti a mano, è che non sono tutti uguali, non sono precisi, però, nella cottura, nei forni casalinghi, noi dobbiamo fare attenzione a questo, perché siano ben cotti, ripeto, l'impasto è così grezzo, non è liscio, perché non ha riposato, dove si fa riposare, si fa riposare, in una ciotola, coperto, dalla pellicola, meglio dalla pellicola, perché, se mettete un panno, comunque traspira, e poi troverete l'impasto un po' secco, quindi, poi ripeto, dove si riposa, in una ciotola, qua, dove avete impastato, così, con la pellicola, si ricoprono una pellicola, e la lasciate lì, tembrato l'ambiente, tembrato l'ambiente, semplicemente, e chiudiamo, il nostro tarallino, così, cosa ci sta preparando, dove ho detto? i tarallini, i tarallini, la differenza tra taralline, i taralli, solamente la grandezza, e lo spessore, allora, questi, sono i tarallini, questi qui, ora facciamo i taralli, piccolini, create un filoncino, e poi i taralloni, no, i taralloni no, sono un'altra cosa, create un filoncino, e tagliate dei pezzi, più o meno uguali, così, visto che adesso facciamo i taralli, li facciamo più grandi, e più sottili, e quindi, allunghiamo, allunghiamo, un po' il cordoncino, si possono fare i muti cereali? certo, potete usare, la farina integrale, quindi, si possono fare i muti cereali, infatti, li ho già pubblicati, quelli ai muti cereali, c'è la ricetta nel blog, nel sito, perché, quelle ai cereali, hanno bisogno di un po' di vino in più, se non erro, quindi, li potete fare con la farina integrale, farina tipo 1, farina tipo 2, farina tipo integrale, la 0, la 00, e quella ai muti cereali, alcuni, mescolano alla farina bianca, un po' di semola rimacinata, potete provare, farina immacinata pietra, farina intilche, si, quello che volete, alcuni, ecco, non mi ricordo più, che cosa stavo dicendo, i taralli, alcuni usano a mettere il lievito, nei taralli, io no, dimmi, c'è qualche domanda, mi ha passato il commento, quale, grazie alla lavoro, e cracco muto, cracco muto, ecce, su queste cose, sicuramente, ma, bisogna vedere, e questi sono i taralli, ora, noi li faremo bolliti, e quindi, io qui ho pronta l'acqua, vieni un attimo, per farvi vedere, che l'acqua, spigli spilli, spengolo, spengolo, spigli spilli, non deve bollire, per mettere i taralli, questi sono gli spilli spilli, sarebbero dell'aria, questo è già il momento giusto, questo è già il momento giusto, per calare i taralli, non mi confondere, aspettiamo un attimo, ora, io vi dico, un piccolo, un piccolo segreto, un piccolo suggerimento, un piccolo suggerimento, per rendere i taralli, più lucidi, io credo che mia nonna, utilizzasse questo segreto, per questo motivo, ci state derivando un trucco, come si chiama, quello che suggerisce, il suggeritore, allora, prendete le fave bianche, qualche secondo, prima, di calare i taralli, li immergete nell'acqua, di cottura, dove andremo a bollire, i taralli, comunque, fra un po' ve lo farò vedere, ve l'ho detto, solamente perché, se li avete visti, direte, che stanno a fare le fave bianche là, e questo, è il tarallo, più grande, ora, vedete la differenza, fra questo che ho fatto all'inizio, e questo che ho fatto adesso, in pochi minuti, come è cambiato l'impasto, quindi immaginate, se lo fate riposare mezz'ora, con la farina che si reidra, guardate questo che bello, liscio, liscio, perché, la farina si è ritratata, gli ingredienti si sono amalgamati, fra loro, e quindi, deve riposare, una mezz'oretta, non abbiate fretta, per fare le cose, dirette, li stiamo già, realizzando, per fare le cose per bene, bisogna avere pazienza, calma, e prendersi i tempi giusti, non vi lamentate, quando vedete nella ricetta, dovete aspettare le zora, oppure, quando avete visto la ricetta del pane, una signora si è agitata, madonna, io devo fare il pane, in una giornata, se vuoi mangiare un pane buono, con una lunga lievitazione, ci vuole la passione, altrimenti, se no, si vanno a comprare, se no, fate un altro lavoro, ecco qua, l'impasto adesso, è già più facile da lavorare, possiamo farle anche, ancora più sottili, così, e viene più grande il tarallo, sì, naturalmente, i tempi di cottura, fra questo, questo e questo, varieranno, questo anche se è piccolo, lo terremo di più in forno, perché è più spesso, questo un po' di meno, questo molto di meno, rispetto a questo, le accortezze, ma io lo sembri da chiamare, i biscotti, pure mia nonna, li chiamava biscotti, però, si chiamano taralli, ci sono taralli, biscotti, i biscotti sono le paste da latte, adesso, mia nonna chiamava quelle, le paste da latte, infatti, discuto sempre, per questa cosa qui, sul sito, che io chiamerò sempre, paste da latte, non le chiamerò biscotti, allora, se non c'è nessuna domanda, io passo a bollire i taralli, poi li finisco, li finisco io, di realizzare, c'è qualche domanda, entro oggi, il greco sembra muto, va bene, e poi, quindi, domande, non ce ne sono, anche le fave, che usavano le nonne nostre, usavano le fave, è una domanda, no, poi lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo già, vi stavano dicendo, perché le fave, credo che l'amido delle fave, donasse lucentezza, ai taralli, io penso che sia questo il motivo, poi non lo so se ce n'è un altro, non ce n'è nessuno, ora, siccome l'acqua è quasi tonta, aspettiamo qualche minuto, nel frattempo, io faccio qualche altro tarallo, se c'è qualche altra domanda, vi rispondo, se no, andiamo avanti, poi il fatto, di, se, senza bollire, si, ora ve lo dico, allora, lo dici subito, si, lo dico subito, visto che devo aspettare l'acqua, dei taralli, ora, se volete farmi senza bollire, la ricetta, senza bollirli, la ricetta è la stessa, solo che, forse, per renderli un po' più friabili, meno pastosi, dovete aggiungere, un pizzico, 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 di bicarbonato, ma proprio, un pizzichino, impercettibile, non col cucchiaino, proprio, preso con la punta delle dita, un pizzichino, di bicarbonato, proprio come se hai dato un pizzico, si, che vi rende, un po' più friabili, altrimenti, sono troppo pastosi, però, potete farli, lo stesso, anche senza bollirli, lo stesso, sempre aromatizzati, con quello che è più preferita, poi, un'altra cosa, ve la dico dopo, riguardo al fatto, che, devono asciugare, almeno una notte, se li fate il pomeriggio, o li fate la mattina, almeno, fate l'asciugare, un 12 ore, ora, però, ve lo dico, quando lo stiamo facendo, io lo sto facendo, di diverse dimensioni, per farvi vedere, saluta, in spagnolo, ci sono gli argentini, le nostre, hanno scritto, come la sardes, come? fermati qua, basta, di una centina, saluti, ciao a zia Franca, ciao a zia Vittoria, viene a vedere qua, io metto le fave, metto le fave nell'acqua, guardatevi vedere, un attimo, l'acqua, è al punto giusto? si, spilli spilli, spilli spilli, passata, quando è il punto giusto, vedete, mettendo le fave, le fave tendono a salire, si muovono, si mettono prima le fave, le fave, se no, a che serve, metterle dopo, a niente, ora, caliamo, la fave, grazie a dio, adios, ora, bies, grazie a dio, va bene, vieni qua, mettiamo i taralli, saluto, vieni più vicino, per favore, facciamo vedere, come si fa veramente, saluto i taralli, saluto la Francia, saluto a tutti presenti, immergiamo i biscotti, in silenzio, affondano i biscotti, oh signora, è certo che affondano, e ci tenono un salvagente, ciao, se voi, hanno la forma, dai, allora, naturalmente, l'acqua non deve bollire, vedete le bollicine, che si formano intorno, si vede, io penso di sì, si formano intorno al taralli, delle bollicine, aspetta, devo, devo tallare la nebbia, si, si vedono, in fondo, in fondo, voi non li dovete toccare, arriveranno a cala da soli, non li toccate, aspettiamo, rimani qua, che devono vedere, il momento in cui sarà cala, io non li toccherò, aspettiamo, aspettiamo, la magia, che saltano a cala, sono affondati, non sono affondati, stanno cuocendo, immersi, stanno facendo, la loro prima di natura, affondati, se noi non li facciamo cuocere bene in questo momento, i taralli non avranno una buona riuscita, perché verranno un grungoletto, diceva mia nonna, cioè, con quei pezzi, grungoletto, con quei pezzettini crudi all'interno, allora, come vedete, adesso cominciano, a muoversi, e adesso arriveranno a cala, l'acqua si sala? no, perché il sale è nell'impasto, niente sale nell'acqua, ok, c'era una domanda, no, e c'è il sale nell'impasto, perché lo dobbiamo mettere nell'acqua? hanno chiesto, no, no, adesso comincia a bollire più, più velocemente, e ora saliranno, e fu così che i taralli non salirono, con la piastra, non è facile regolare, questo è l'impasto per fare le friselle? no, per fare le friselle, è tipo l'impasto del pane, con un po' di olio in più, per renderle più friabili, no, 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 questo è l'impasto, tipo quello del calzone, però contiene un po' meno olio, è un'altra cosa, no, è un'altra cosa, ecco, cominciano a muoversi i taralli, il primo deve, eccoci, la fava sta parlando su, non è la fava, qual è il tarallo? no, stanno parlando, il tarallo, ecco qua, i taralli, ciao Maria Vittoria, cominciano, a venire a calda, questo, forse ho messo i taralli un po' troppo presto, rispetto alla temperatura dell'acqua, vuoi farlo tu e cambiamo posto? no, ok, no, non deve bollire, non deve bollire forte, non deve bollire come quando caliamo la pasta, spilli spilli, lasciate le fave nell'acqua, naturalmente non mettete troppi taralli alla volta, perché non si devono sovrapporre, devono stare sulla base, allora metti a scolare, eh sì, si mettono a scolare qui, e non è vita, e poi, ne mettiamo sempre sul mio sport, oppure, se non avete lo sport, potete metterli tranquillamente, su una, su una tovaglia, su un piano, su un tavoliere, sulla tovaglia, e lasciate sopra, per asciugare, per asciugare, cioè si fanno asciugare, sì, quasi qui, ora devono asciugare, almeno fino a domani mattina, domani mattina, con calma, li cuocite in forno, in forno caldo, a 180 gradi, ventilato, per 20 minuti, 25 minuti circa, ognuno, purtroppo, io non posso darvi le, le indicazioni precise, precise per i minuti di cottura, perché ogni forno, ha le storie sue, le patruglie sue, le malattie sue, ognuno, sa le cose, dei fondi suoi, ora li caliamo agli altri, vieni qua, perché adesso, l'acqua va più forte, quindi l'asciugatura, parete, sì, l'asciugatura, è lunga, ma soprattutto, è importante, perché vedrete, noterete la differenza, se non ne asciugate, invece con l'asciugatura, è notevole, sa la differenza, cambia il risultato, cambia il risultato, vengono più lisci, vengono più omogeni, sono più belli, non cambia il sapore, cambia l'aspetto, però, se vogliamo mangiare, le cose buone, devono essere anche belle, le cose fatte veloce, non vengono, se dobbiamo fare le cose bene, dobbiamo fare belle e buone, prendiamo i taralli, e li mettiamo, io li sto mettendo qui, sullo sport, voi ho detto, potete metterli tranquillamente, su una tovaglia, su uno spianatoio, questo lo sport in cina, tranquillamente, più ne fate, più, più ne mangerete, più ne mangerete, quindi qua, a far vedere, come adesso salire, allagarlo più velocemente, come vedete, l'acqua, non è in bollore, come quando stiamo cuocendo, la pasta, è molto più delicato, è molto più tranquillo, un domando sull'asciugatura, temperatura ambiente, si si si, si, la temperatura ambiente, certo, solamente te in forno, non asciugherà, in frigo non asciugheranno mai, temperatura ambiente, stese, sul pane, uno sport, uno distante, lasciatele tutta la notte, si maestro, poi, dillo tu, fai vedere qui che stanno salendo, vedete, ci mette qualche, ci mettono qualche minuto, a venire a galla, però, un po' di pazienza, per avere un buon risultato, naturalmente ho detto, potete evitare questo passaggio, e fare i taralli, solamente, senza bollitura, e quindi, direttamente, vengono a galla, vano tolto, si vanno tolti subito, si si, non devono, stare, nell'acqua, vanno tolti subito, vanno tolti, così, fatti scolare, fatti scolare qui, o un colapasta, qualsiasi, devono solamente, perdere l'acqua in eccesso, e poi, vanno messi, o sullo sporto, o su un panno, aspetta che io, metto questi altri, che ho fatto, c'è qualche domanda, sono un po' arrabbiata, per forza, per forza, è 50 giorni che non esce, no, non sono un po' arrabbiata, gli ho detto, prima di iniziare la diretta, ti prego, non mi interrompere, che mi fai perdere il filo, è come se ne avessi detto, Raffaele, interrompimi ogni due secondi, non si può stare, poi subendo la depressione, in natura, io la depressione non ce l'ho, subendo la depressione, non ce l'ho proprio, questi, sono i teralli, che ho fatto prima, e come vedete, sono asciutti, sono pronti per la cottura, però questi li ho fatti, verso le due, meglio ancora, fino a domani mattina, si vedono, scusa, puoi passare, se no li lascio nel piatto, questi sono quelli, sono quelli asciutti, che ho fatto oggi pomeriggio, per farvi vedere, quelli che sono appena fatti, e così sono quelli asciutti, e dopo l'asciugatura, dopo l'asciugatura, e questi, i taralli cotti, questi sono i taralli cotti, questi sono semplici, non hanno nessun gusto, sono semplicemente dei taralli, taralli semplici, così, senza niente, invece quelli che ho fatto prima, sono al pepe, si può ripetere senza bollitura, senza bollitura, allora senza bollitura, ripeto all'inizio, lo sto ripetendo, senza bollitura, il procedimento è lo stesso, quindi unite alla farina, ai 150 grammi di olio, fate incorporare per bene, aggiungete il vino caldo, il vino bianco caldo, lo zucchero e il sale, lo zucchero un pizzico, mettetelo, lo zucchero e sale, impastate, fate riposare lo stesso, per una mezz'oretta, ricalate i taralli, e passate direttamente alla cottura, in quel caso vi suggerisco, di aggiungere, una puntina piccola piccola piccola, di bicarbonato, per dargli un po' più di, friabilità, altrimenti verranno troppo, troppo, come ho detto prima, non mi viene più il termine, verranno, troppo, non verranno friabili, non mi viene più la parola, non mi viene più il termine, se vi ricordate voi scrivetelo, invece se mettete un pizzichino di bicarbonato, gonfieranno leggermente nella cottura, e quindi saranno più friabili, c'è altro? dimmi, massus, massus, diciamo cosa, se si, io quelli che avevo realizzato, li ho cotti, ora vediamo questi qua, vi faccio vedere questi qua, che l'impasto, è riposato un po', per farvi vedere, la differenza, come verranno lisci, e come è anche più facile, lavorare l'impasto, che si stende più facilmente, vedete? è diverso l'impasto, è più facile da lavorare, più liscio, è più bello, bene, se non ci sono domande, penso che io vi ho detto tutto, ripeto, potete utilizzare, qualsiasi tipo di farina, quindi dalla farina, 00, 00, 12, integrale, invece dello zucchero, si può mettere, in mezzo il malto d'orzo? si, una cosa, che caramellizzi, e dia un po' di colore, ai carali, così invece di tenerli, tanto tempo in forno, per ottenere, una duratura perfetta, li terrete un po' in meno, e verranno più croccanti, più friabili, questo è il mio consiglio, non sono regole, questo è un consiglio mio, che ho fatto, che vi do, in base alla mia esperienza, poi naturalmente, ognuno, è libero di fare come crede, la cucina non può essere, né in posizione, né regole, le regole sono pochissime, da rispettare, però, gli ingredienti, i modi di preparazione, ognuno di noi, ha i suoi gusti, ognuno di noi, ha le sue storie, visto che, vedo se sono nel link, è tutto scritto nel link, anche l'utilizzo delle fave, che ho detto, e mia nonna lo utilizzava, penso per dare lucentezza, ai taralli, ora sta andando troppo forte, quindi, i due metodi, si, devo ripetere, se si possono fare la paprika, certo, che lo avevamo saltato, si, la paprika non mi era venuta in mente, però certo che si, ho detto prima curcuma, paprika, zenzero, cipolla, disidratato, cipolla cotta da voi, pepe, peperoncino, semi di finocchio, rosmarino, origano, quello che, pomodoro, avete in casa, no, allora no, pomodoro, a pomodoro sì, allora a noi, a voi, a loro, adesso, basta, le battute, questa è quella delle, che ore sono? Vabbè, e quindi, abbiamo finito di, fare i taralli, se c'è, ancora una domanda, rimaniamo ancora qui, altrimenti, salutiamo, vi faccio vedere, un'altra volta i taralli, cotti, e andiamo, naturalmente, li potete fare anche così grandi, perché anche in commercio, li trovate così grandi, il tempo di, il tempo di cottura, l'ho detto, 180 gradi, forno ventilato, per 25-30 minuti, però, ho detto, ripeto, ogni forma, ha, ha, le storie sue, ecco, e non posso, non potete, non posso dirvi esattamente, non sono proprio, non è una scienza esatta, l'unica scienza esatta, il fatto che tu parli sempre, che è una scienza esatta, è una paloma, mi sto, ok, mi sto mandando, ti stai mandando, a marzo, figurati, se parlavi di più, io non potevo parlare più, se parlavi tu, calo questi altri, vi faccio vedere, i taralli completi, e ci salutiamo, se avete qualche domanda, fatela adesso, comunque poi, io rispondo, c'è Lory che risponde a qualcuno, brava Lory, come sempre, fai il friend qui, che io mi allontano un secondo, eh, ma non si vede niente, eh, non so, però, non si vede più nulla, si vede, si vede, i taralli, i taralli cotti, quindi abbiamo tutti i passaggi, dei taralli, questi sono, i taralli appena bolliti, che io metto qui, i taralli appena bolliti, ad asciugare, stesi su uno sporto, ad asciugare, così, che sono bagnati, i taralli, fatti in precedenza, questi sono, che sono già asciutti, asciutti, dopo ore, sì, e i taralli cotti, i taralli cotti, in forno, biscotti, biscotti, perché cotti due volte, prima in acqua e poi a fuoco, vedete, l'interno, è ben cotto, che cosa qua, lo pietri, lo pietri, la segnità bassa, abbassa, no, dai, così va bene, sì, devo riprendere il colpo, sì, sono buoni, ok, ok, bene, l'abbiamo fatto, quindi, io ho i miei, ultimi taralli, in cottura, qui nell'acqua, c'è qualche, delucidazione, sì, qualcuno, chiede, le friselle, ma se ci sarà una prossima occasione, le facciamo, oggi che giorno, eh, oggi che giorno, venerdì, venerdì, non lo so, venerdì e basta, venerdì, ok, le facciamo la settimana prossima, oppure sabato, domenica, adesso vediamo, sì, le friselle le possiamo realizzare, solo che ci sono parecchi step, dovete fare l'impasto del pane, con un po' più di olio, lo fate lievitare il ciotolo, comunque poi, al massimo, chi chiede, chi sta chiedendo delle friselle, gli metto il link della ricetta, però ve lo spiego lo stesso, sicuramente ci rivedremo, su questo canale, comunque li farò, se domiziano un uomo, sì, fate lievitare, se vi fa piacere la prima volta in coppa, usate sempre pochissimo lievito, per avere un prodotto ben fatto, non perché lo dico io, che si utilizza poco lievito, ma perché utilizzare tanto lievito, non serve, uno in questo momento, che stiamo in casa, e quindi non abbiamo bisogno, di avere delle bombe atomiche, che ci lievitano in mezz'ora, abbiamo il tempo a disposizione, per fare le cose per bene, quindi bastano 2-3 grammi di lievito, su un chilo di farina, per avere delle friselle ottime, le preparate la sera prima, e le fate lievitare tutta la notte, non dovete stare voi, a coccolare l'impasto, per farlo lievitare, fa tutto da solo, quindi, fate l'impasto, tipo pane, con un po' di olio in più, le fate lievitare in ciotola, e poi, la mattina dopo, realizzate delle ciambelline, ma si ne ha meste, si ne ha meste, ma si finisce, realizzate delle ciambelline, e le mettete a rinlievitare, forse anche è troppo, aspetta, e le mettete a rinlievitare, però ci sono 2 metodi di cottura, per le friselle, comunque aspettate un secondo, le mettete a rinlievitare, fatte a ciambellina, il primo metodo di cottura vuole, che una volta lievitata la ciambellina, quindi la frisella, la potete fare sia col buco, che senza buco, io col buco, a me col buco non mi piacciono, perché cadono tutti i pomodori dal centro, e mi da fastidio questa cosa, però voi fate come volete voi, e le mettete in forno, e fate una prima cottura, appena vedete che la ciambellina della frisella, è abbastanza dura, e resistente, da poterla tenere in mano, senza che si sgonfia, quindi è abbastanza cotta, aspettate che si raffreddi, perché così, quando l'andate a tagliare, non si vede il taglio, sempre per una questione di bellezza, non cambia il sapore, cambia l'aspetto, aspettate che si raffreddi dopo la cottura in forno, tagliate, e fate biscottare, nel forno, il secondo metodo di cottura invece, dice che, una volta lievitata la ciambellina, la seconda volta fatta la forma della ciambella, la dobbiamo bollire, come abbiamo fatto con i taralli, vabbè, vogliono vedere, ci sarà un modo, ci sarà un modo, una volta bollita, lo stesso come i taralli, quando la ciambellina sale, non capiscono, non capiscono, tu non capisci, non loro, come fanno a capire, come sai tu, sono quelli che magari l'hanno già fatto, fammi fine di parlare, è stata certa, quando sai la galla, la togliete, la fate asciugare, la mettete a cuocere lo stesso nel forno, come prima, quando è fredda, la tagliate, e la biscottate, la differenza tra le due, quella bollita sarà un po' più leggera, un po' più friable, quell'altra è buona o uguale, non cambia niente, Poi magari vi metto il link, dove c'è scritto tutto, va bene? Ferma con le mani, ok? Ok. Ah? Ok. Allora io ho finito di taralli, ci salutiamo, e ci vediamo la prossima volta, salutiamo tutti. Allora visto che avete chiesto di fare le free sale, magari la prossima volta facciamo le free sale, se avete qualche altra richiesta, però non fate richieste, richieste importanti, che non si possono realizzare, non si possono fare in diretta, ma non lo fai dire, che non si possono realizzare in diretta, fate delle richieste semplici, che in mezz'ora le potremo realizzare, perché se voi mi chiedete di fare le melanzane ripiene, come mi ha chiesto l'altro giorno quel ragazzo, come faccio a fare le melanzane ripiene in diretta? È impossibile. Delle richieste fattibili, io faccio tutto, quello che volete, nei limiti, ok? Ok. Va bene, allora ci salutiamo, a presto, e buona serata a tutti. Ciao Mattias, devo salutare mio nipote, che oggi ha fatto tanti compiti, ha fatto inglese, ha studiato i mammiferi, ha studiato tutto, ciao amore di zia, sei stato bravo, 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 un bacio grande, grande, ciao Mattias, bravo. Puoi ripetere un attimo il lievito, se si mettono o no? Dove? Nell'impasto, il lievito o no? Dei biscotti? Dei caralli? Sì. C'è chi lo usa, io non lo metto, se lo mettete, dovete far riposare un po' di più l'impasto, perché date modo al lievito di lavoro. Non è quella la ricetta che... Però la ricetta che ho dato io no, ma se voi lo volete mettere, mettete su mezzo chilo, un grammo, non di più, ma ho detto, c'è stata una diatriba con una signora che aveva un panificio che mi diceva che la mia ricetta non è una ricetta giusta, perché nei taralli... No, 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 no. Nei taralli mi... Eh, da sta è certo. Come va a fare? Perché nei taralli si mette il lievito. Io invece gli dicevo che io non l'ho mai messo il lievito e le mi dicevo che io non capivo niente. Però, se nei panifici mette il lievito, io questa cosa non la posso sapere. Io la ricetta che sto dando a voi è quella di mia nonna, quella che conosco io. E nel lievito non c'era. Se voi volete mettere il lievito, volete provare, provate. Ho detto, su mezzo chilo mettete un grammo di lievito, però fate riposare di più l'impasto in modo che il lievito si attivi, se no non ha senso a mettere il lievito. Ok? Va bene? Ottimo. Biscotti cruti, biscotti asciugati, biscotti, corte. Hai finito? Possiamo salutare? Sì. Ok, grazie. Guarda, che gentile. Ok, allora, buona serata a tutti e ci vediamo la prossima volta. Se avete delle richieste lasciatele nei commenti. Ciao! Il video poi lo mettiamo su su YouTube pura ce lo trovo. Sì, poi il video se volete lo trovate su YouTube. Non ha visto la fava. Eh? C'è qualcuno di Italia non ha visto le fave. la fava, la fava. Lo trovate su YouTube. Lo caricaremo su YouTube. Lo caricaremo su YouTube. Sul canale. Come se ne pare prima di immergere i taralli, perché mia nonna faceva così? Penso che lo facesse per dare lucentezza ai taralli. Voi provate? Provate a mettere le fave. Vedete? Trovate differenza rispetto ai taralli che facevate di solito? Se non trovate differenza non le usate. Se invece trovate differenza usatele. Fate le cose liberamente senza nessuna... Vabbè, Graziale sta rispettando i metodi tradizionali, tasalini. Quello che ho visto fare da mia nonna. E basta. Non stiamo a sperimentare niente. Ok? Sì, stiamo rispettando le tradizioni. Ok? Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Ciao Mattias. Ciao.